Mi candido con il Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità perché siamo l'unico partito che vuole mettere al centro delle politiche della Regione Emilia-Romagna l'essere umano e l'individuo. Oggi in Emilia-Romagna si parla sempre di più di sanità in termini economici e quasi mai in termini di salute per i cittadini, per l'uomo e per l'essere umano. Noi vogliamo riportare al centro l'individuo, il rapporto medico-paziente e la fruizione per tutti i ceti sociali della salute pubblica.